Il Paradiso delle Signore Sette, Roberto Farnesi Finale, la Contessa nasconde un segreto. Cosa succederà nel gran finale del Paradiso delle Signore Sette? L'appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio continua ad appassionare il pubblico di Rai 1 i grandi colpi di scena sono in arrivo in vista delle prossime settimane di programmazione. Al centro delle trame, infatti, continueranno ad esserci le vicende della Contessa Adelaide, la sua sparizione nel nulla sarà avvolta nel mistero e a confermare questa situazione ci è pensato anche Roberto Farnesi, colui che veste i panni del tenebroso commendatore Umberto Guarnieri. Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate del Paradiso delle Signore Sette rivelano che la Contessa Adelaide farà perdere le sue tracce proprio in vista dell'attessissimo finale di questa stagione. La donna, dopo aver annunciato la sua partenza improvvisa, desterà i sospetti del fidanzato Marcello, il quale deciderà di mettersi sulle sue tracce per cercare di capire cosa sta succedendo. E, a quel punto, Marcello scoprirà che la donna non ha mai raggiunto la città di Lione così come aveva fatto credere a tutti i suoi familiari. Che fine ha fatto la Contessa e perché ha mentito al suo fidanzato col quale sta costruendo un rapporto solido. Il mistero sulla donna terrà banco nel corso delle ultime puntate di questa settima stagione e a stuzzicare ancora di più i fan della Sop, ci ha pensato anche Roberto Farnesi. L'attore, considerato ormai una delle colonne portanti del Paradiso delle Signore proprio assieme a Vanessa Gravina, ha confermato che c'è qualcosa che non va nella vita della Contessa. Verso il finale di stagione. Quale segreto nasconde la Contessa, ha scritto Farnesi in una storia pubblicata sul suo seguitissimo profilo Instagram. Pur non sbilanciandosi più di tanto su quello che sarebbe il segreto custodito da Adelaide in questo finale del Paradiso delle Signore 7. L'attore ha comunque svelato un retroscena importante su quello che succederà nel corso delle prossime settimane. Il giallo legato alle sorti della Contessa e a questo segreto che sta custodendo. Sarà uno dei temi portanti del finale della settima stagione, che continua a registrare ottimi ascolti in day time. Quotidianamente, infatti, sono quasi due milioni gli spettatori che si sintonizzano sulla rete ammiraglia della TV di Stato per seguire le vicende dei vari protagonisti del grande magazzino milanese. E, grazie ad una media che arriva a superare la soglia del 20% di sharing day time. La SOP è stata già confermata per l'ottava stagione. Meneal, tu te vedeți, sau Carbo, tre'i să vă mănânci versi cu versi card intens. Tre'i să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă bat cu boss-ul, la cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul. Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade. Cel siută rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie.